Fun! Numbers! Squiddy, aiutami! Oh mio Dio! Il mio becco può tagliare l'acciaio! La mia radula affilata come un rasoio ti farà pezzettini! Benvenuto nel macro ecosistema! Ciao ragazzi, se anche questo breve video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel polliciato su e lasciate un commento qui sotto! Ma ora passiamo subito ai salumi! Ciao! Io sono Sonic e volevo salutare iVol1318 Ciao Ivol, sei troppo lento, non mi raggiungerai mai! Ciao! Io sono Yoda e volevo salutare Biscottino Prosciottino! Ciao Biscottino Prosciottino! La forza dentro te tu hai! Io che sono Naruto ci tenevo a salutare NoccioloTV! Ciao ragazzo! Allora io che sono Kirby ci tenevo a salutare Marco Aimi! Ciao Marco! Mi raccomando attiva per me alla Video Game Competition!